Mentre per domani dovrebbero arrivare all'Aquila Gianluca Ius, colui che vorrebbe rilevare l'Aquila Calcio, e Bruno Conti, ex bandiera della Roma nel settore giovanile che lo coadiuverebbe in questo progetto, Alessandro Piccinini, assessore comunale allo sport, si sfoga su Facebook. Rischia di saltare, scrive un progetto sportivo per l'Aquila Calcio in Serie D, impensabile solo fino a qualche settimana fa, per l'egoismo e la miopia di pochi, che stanno soffiando sulla fiamma, con la speranza che diventi fuoco e divampi l'incendio, e questo un secondo prima che venga formalizzata l'iscrizione della squadra al campionato. Ius, dice Piccinini, a dispetto delle credenziali con cui si è accostato e dello scetticismo che da tutti, me per primo, ha ricevuto, si sta dimostrando giorno dopo giorno sempre più concreto, coadiuvato peraltro da collaboratori di primissimo piano e comprovata esperienza. I piccoli propri interessi, dice ancora l'assessore allo sport, messi davanti al destino calcistico di una squadra di un'intera città, non va bene. Vi prego di non rovinare, conclude il lavoro faticoso e difficile di questi giorni che tutti i soggetti coinvolti stanno mettendo. Ius chiede garanzia ai vecchi soci per gli impegni pregressi ed è sacrosanto che gli vengano date immediatamente, ma nel contempo che la si smetta di gettare benzina sul fuoco. È proprio qui il nodo. I vecchi soci daranno le garanzie? Ovviamente questo è quello che la città attende per poter ripartire, al di là di chi è pro e contro, l'Aquila Calcio non può sparire.